Buongiorno a tutti, benvenuti a questo terzo incontro dedicato ai temi dell'internazionalizzazione realizzato da Union Camere Calabria attraverso lo sportello European Enterprise Network in collaborazione con gli esperti del CEIP Piemonte, dunque del Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte e del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino. L'incontro di oggi è dedicato all'approfondimento delle nuove regole sulle vendite ai consumatori alla luce della direttiva Omnibus e saranno con noi due relatori, gli avvocati Paolo Lombardi e Niccolò Maggiora. Come molti di Vroi ormai già sapranno, questa attività, quindi questo ciclo di eventi, in realtà si pone all'interno di un progetto che il Laboratorio Chimico di Torino sviluppa ormai da anni in collaborazione con le diverse realtà camerali nazionali, nello specifico, come dicevo, oggi ci troviamo ad approfondire i temi dell'internazionalizzazione grazie alla collaborazione con Union Camere Calabria. Il progetto nazionale legato alle Camere di Commercio è il progetto dello sportello etichettatura e sicurezza prodotti. Si tratta di un supporto di primo orientamento dedicato alle imprese alimentari e non alimentari che ormai realizziamo appunto in collaborazione con le realtà camerali nazionali da molti anni proprio per fornire un supporto concreto a tutte le imprese su una serie di tematiche che sappiamo non sono sempre di così facile comprensione e attuazione. In particolare queste tematiche riguardano i prodotti alimentari, quindi la sicurezza e l'etichettatura dei prodotti che siano destinati al mercato nazionale, europeo oppure anche al mercato estero, quindi a un mercato terzo. L'etichettatura ambientale poi come anticipavo è possibile fornire un supporto anche alle imprese non alimentari, in particolare a quelle imprese che trattano il comparto moda, i prodotti di pelletteria, tutto quanto riguarda l'etichettatura energetica, la marcatura CE, approfondimenti e interpretazioni rispetto a quelle che sono le richieste del codice del consumo. Poi per quanto riguarda il commercio internazionale, che appunto è poi l'oggetto di questo ciclo di eventi realizzato con Union Camera e Calabria, in realtà segnalo che è possibile approfondire attraverso il servizio sportello e l'etichettatura la tematica della contratualistica, della fiscalità internazionale e della normativa doganale. Ci sono poi degli aspetti anche per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale. Inoltre, questa è proprio una notizia molto recente, da quest'anno sono entrati a far parte del servizio anche due nuove realtà, in particolare Agroqualità, che può fornire in collaborazione con noi un supporto per quanto riguarda il tema della certificazione alimentare e il CONAI. Uno dei temi fatti per il quale il servizio sportello e l'etichettatura può supportare le imprese è il tema dell'etichettatura ambientale, che sappiamo da quest'anno, dal primo gennaio di quest'anno, è obbligatoria per tutti gli imballaggi messi al consumo qui in Italia. È un tema che già trattavamo, che abbiamo trattato negli anni. Quest'anno abbiamo scelto, voluto fortemente, la collaborazione con il CONAI proprio per fornire un ulteriore scambio informativo per riuscire a approfondire ulteriormente il tema dell'etichettatura ambientale, proprio con quello che, come tutti sappiamo, è il soggetto che forse più di tutti in questi anni ti è interessato a questo tema. Come soffrire del servizio? Voi vedete su questa slide un link che rimanda alla nostra piattaforma, al nostro sito, il portale etichettatura e sicurezza prodotti. Quando cliccherete su questo link comparirà immediatamente la home page che vedete sempre riportata nella slide. In questa home page trovate tutta una serie di informazioni da quelle che sono delle sezioni a libero accesso, quelle che trovate sulla sinistra, ad esempio i riferimenti normativi, le FAQ, le schede prodotto. Trovate poi una cartina, vedete, dell'Italia. Cliccando sulle regioni e poi selezionando la vostra provincia di riferimento, automaticamente vi verrà comunicato se il servizio è presente, a quali condizioni, ovvero sia se attualmente gratuito o meno. Per inoltrare poi la vostra richiesta, quindi il vostro quesito, vedete che è presente questo pulsante in alto a destra, inoltre al tuo quesito. Cliccando su questo pulsante comparirà un pop-up in cui vi viene richiesto o di iscrivervi al sito, al portale, chiaramente si tratta di un'iscrizione gratuita, molto semplice, veloce, vi chiediamo sostanzialmente i vostri dati aziendali, la ragione sociale, la partita IVA, i vostri contatti. Ecco, una volta effettuata la registrazione, creerete quindi una vostra area riservata e proprio da quest'area riservata potrete andare a inserire effettivamente la richiesta. Quindi vi chiederemo di dettagliare un pochettino quello che è il vostro quesito, eventualmente anche inserendo degli allegati, ad esempio una bozza di etichetta, delle immagini che ci consentono di comprendere meglio qual è il prodotto di vostro interesse e potrete scegliere se fruire del servizio con una riposta scritta oppure con un incontro online con uno dei nostri esperti. Ecco, riguardo a questo aspetto segnalo che per quanto riguarda i temi dell'internazionalizzazione al momento la modalità di fruizione è proprio quella legata all'incontro online o eventualmente telefonico con gli esperti che ci supportano. Segnalo ancora che per quanto riguarda le imprese calabresi, proprio grazie al contributo di Union Camera Calabria, il servizio è attualmente gratuito, quindi non ci sono dei costi che vengono imputati all'impresa, proprio per questa collaborazione ormai pluriennale con Union Camera Calabria che periodicamente stanzia un fondo, proprio a garanzia del fatto che il servizio risulti gratuito per le proprie imprese. Vi ringrazio per l'attenzione, cedo quindi la parola ai relatori. Buon webinar. Tutto grazie agli organizzatori per il coinvolgimento e sempre per l'attenzione che ripongono a questi eventi formativi di fondamentale importanza, specialmente quando, come oggi, riguardano delle novità, novità legislative che vanno a impattare su aspetti assolutamente concreti della vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda l'operatore economico, l'imprenditore e sia per quanto riguarda il consumatore. Ci occuperemo nel tempo a noi a disposizione delle nuove regole che il legislatore, prima europeo poi italiano, hanno introdotto in relazione alle vendite sia online che offline nei confronti del consumatore. In particolare con il mio socio Paolo Lombardi avremmo ipotizzato di trattare tre grandi tematiche. La prima dedicata, come detto, proprio a analizzare, seppur sinteticamente, quali sono queste novità portate dalla cosiddetta direttiva Omnibus. La seconda parte dedicata a descrivere quali sono le tutele in relazione a eventuali vizi che il venditore deve mettere a disposizione al consumatore e quindi tutto ciò che è legato al tema della garanzia per i vizi, quindi diritto di regresso, garanzia convenzionale e come detto i rimedi. Per poi terminare con un focus sulle vendite online e in particolare gli obblighi informativi, il diritto di recesso che deve essere dato al consumatore e le clausole vessatori. Dovremmo riuscire anche a fare una breve pausa tra il mio intervento e quello del mio socio Paolo Lombardi, però direi di iniziare per poi vedere un po' le tempistiche. Innanzitutto è bene chiarire i soggetti protagonisti della disciplina contenuta nel codice del consumo. Chi è il consumatore? Il consumatore è quella persona fisica, e già dobbiamo fare attenzione al concetto di persona fisica, quindi non una persona giuridica, quindi non una società, non un'associazione, ma una persona fisica che agisce per un suo scopo personale estraneo a un'attività imprenditoriale o professionale. Un classico esempio che facciamo è l'avvocato maggiore che compra un computer per la sua attività professionale, quindi dando banalmente con la sua partita IVA, è un soggetto che non si colloca nella definizione di consumatore, mentre Niccolò Maggiora che va a comprare un pc per casa sua, non dà la partita IVA, può essere considerato un consumatore, quindi può attivare tutte quelle protezioni che poi andremo a vedere messa a disposizione dal legislatore e in particolare indicate nel codice del consumo. Il professionista di contro è la persona fisica o giuridica, quindi vedete che in questo caso vengono ricomprese tanto i soggetti individuali quanto le persone giuridiche, quindi società di capitali, di persone ditte individuali che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Quindi nel caso di una compravendita il professionista è colui che vende, il venditore e il consumatore, ovviamente colui che acquista, se ricade nella definizione che abbiamo dato prima. Il codice del consumo è uno zibaldone di situazioni che hanno come comune denominatore il consumatore. Quindi andiamo ecco da pacchetti turistici a vendite online, vendite fuori dai locali commerciali, sicurezza dei prodotti, multiproprietà, clausole vessatore, qui vedete ecco un elenco. Non è sempre facile di stricarsi, però è stata fatta questa scelta legislativa e quindi si è cercato di raggruppare tutti i principali ambiti in cui il consumatore può venire a contatto per cercare ovviamente di tutelarlo il più possibile. Nell'ambito delle varie materie ecco vedete indicati i contratti a distanza che è la definizione giuridica in cui viene poi riqualificato il contratto concluso online, quindi il cosiddetto e-commerce. Entriamo nel merito del primo macro tema che abbiamo pensato questa mattina. Quindi che cosa ha introdotto la direttiva omnibus nel nostro codice del consumo? Ovviamente la direttiva è un atto comunitario del legislatore europeo che pone degli obiettivi, pone dei principi che poi devono essere recepiti dai singoli stati membri, quindi in questo caso dall'Italia, con un certo margine di discrezionalità. L'Italia, come purtroppo capita, ha impiegato molto tempo prima di adottare, di recepire questa direttiva, ma finalmente nel 2023 è stata recepita e quindi sono già in vigore tutte le novità, tutti gli obblighi di cui andremo a parlare. In ultimo è entrato in vigore a luglio del 23 quello in relazione agli annunci scontistici, quindi agli annunci promozionali. Su cosa è andato a intervenire il legislatore europeo e di conseguenza quello italiano? Innanzitutto direi che in generale la direttiva omnibus si colloca in un'iniziativa più ampia dell'Europa, il cosiddetto New Deal for Consumers, che è volto in generale a adeguare l'impianto normativo a favore del consumatore all'evoluzione digitale, specificando che comunque quello che andremo a dire si applica tanto al mondo digitale, quindi alle vendite online, ma anche alle vendite fisiche, alle vendite tradizionali fatte nei negozi fisici. Se dovessimo scegliere un principio, un comune denominatore che sta alla base degli interventi fatti dal legislatore, direi che questo principio è la trasparenza. Trasparenza ovviamente rivolta a non influenzare in maniera ingannevole e fuorbiante le scelte del consumatore. Consumatore che, come credo abbiate capito, è un soggetto considerato debole e quindi deve essere adeguatamente protetto nell'ambito dei rapporti con i professionisti. Quindi c'è stato innanzitutto un adeguamento in relazione alle definizioni che poneva il codice del consumo, sempre in virtù di questo allineamento all'evoluzione tecnologica e digitale. Sono state introdotte delle nuove pratiche che vengono considerate ingannevoli e quindi possono essere poi oggetto di una sanzione laddove vengano messe in atto da parte del venditore. È stato posto un focus particolare, come dicevamo, sulle azioni di promozione, di scontistica che vengono messe in atto tanto nell'ambito online quanto nell'ambito offline. Un focus volto appunto a evitare che gli sconti proposti siano gonfiati o comunque falsi, andando quindi, come vedremo, a dare dei parametri di riferimento al consumatore. sempre in relazioni al processo decisionale che porta il consumatore a acquistare un prodotto rispetto a un altro, c'è stato un intervento significativo sulle recensioni. Andremo a vedere che ecco il legislatore è intervenuto anche in questo ambito. Così come una novità riguardo riguarda i termini di recesso e le sanzioni che eventualmente l'autorità nazionale, nel nostro caso l'autorità garante la concorrenza del mercato, può attribuire a un professionista laddove non sia in linea con gli obblighi normativi. come vi dicevo c'è stato un riassetto, una modernizzazione delle definizioni, quindi troviamo adesso nel codice del consumo dei concetti quali bene digitale, classificazione, mercato online, che prima non erano presenti e ponevano oggettivamente delle difficoltà tanto all'operatore economico quanto anche a noi avvocati, ai consulenti perché molte norme essendo pensate per un mercato ecco che forse non esiste più o comunque è sempre meno presente, non si riuscivano bene a conciliare con appunto l'evoluzione In relazione a quali pratiche commerciali ingannevoli sono state pensate e introdotte, trovate qualche esempio. Innanzitutto il legislatore ha voluto colpire quelle azioni ingannevoli che vengono qualificate come dual quality, ovvero quando il venditore promuove il prodotto in maniera identica in vari stati laddove invece questi prodotti poi di fatto non hanno le stesse caratteristiche ma hanno appunto delle caratteristiche diverse Quindi anche qui il principio ispiratore è sempre quello della trasparenza e di andare a fornire al proprio consumatore nell'ambito ormai di un mercato internazionale globale Quindi non dare informazioni ingannevoli in relazione al medesimo prodotto Altri tipologie di azioni o meglio omissioni che sono considerate ingannevoli Innanzitutto qui con uno specifico riferimento direi ai marketplace Bisogna dire ovviamente prima che il consumatore faccia le proprie scelte Qual è la natura del soggetto che sta vendendo il prodotto Quindi se si tratta di un professionista o se si tratta di un consumatore Perché è importante che il consumatore, colui che acquista sappia chi ha dall'altra parte, chi sta vendendo il prodotto Perché se è un professionista il consumatore che acquista avrà le stesse tutele Avrà le tutele indicate dal codice del consumo Come abbiamo visto prima c'è un rapporto tra un professionista e un consumatore Ma se chi vende è anche lui un consumatore A questo punto siamo al di fuori dell'ambito del codice del consumo È un rapporto tra privati e quindi la protezione a favore del consumatore viene meno Il legislatore è poi intervenuto su un altro ambito molto sensibile Ovviamente con particolare riferimento al mondo online Che è quello del posizionamento dei prodotti Rispetto a prodotti di un concorrente La cosiddetta classificazione Cioè sapete che ecco nell'ambito di una ricerca Su un sito e-commerce Vengono presentati i prodotti in una sorta di classifica Allora adesso il legislatore ha posto l'obbligo Di informare correttamente, in maniera trasparente Il consumatore sui criteri Su quali sono i criteri per cui un prodotto di la società Alfa Viene messo in evidenza Viene indicato prima di un analogo prodotto della società Beta Perché ovviamente se c'è un criterio legato al pagamento da parte della società Alfa Per essere indicato prima di altri suoi concorrenti Questo il consumatore lo deve sapere Se invece è una classifica basata sulle recensioni Basata sul numero di prodotti venduti Ovviamente questa è un'altra tipologia di informazione Su cui il consumatore può basare la propria scelta Come dicevo Un altro ambito che è stato ritenuto Di particolare importanza Nel processo decisionale Che porta il consumatore a acquistare un prodotto rispetto a un altro È quello delle recensioni Allora qui la scelta del legislatore È quella ovviamente di cercare di evitare Che il consumatore venga influenzato da recensioni false O recensioni manipolate E quindi è stato introdotto un obbligo in capo al venditore Di andare a indicare Se le recensioni da lui pubblicate Da lui condivise con i consumatori Sono in qualche modo garantite In altri termini Il venditore deve dire al proprio consumatore Se ha posto in essere Delle precauzioni, delle azioni Che portano a ritenere le recensioni Veritiere, affidabili Oppure se non ha messo in atto Nessun'azione Nessun correttivo E quindi Come dire Il consumatore potrebbe essere portato a Ritenere meno affidabili Le recensioni Che vengono pubblicate Sul sito del venditore C'è un chiaro obbligo Naturalmente A non Incaricare Ecco Dei soggetti terzi A rilasciare delle dichiarazioni False o non veritiere E come ho detto Un obbligo a fornire Un'informazione Sulla presenza o meno Di criteri O comunque di Ecco Azioni Che portano a ritenere La recensione Più affidabile Che in altre parole Vuol dire che Il venditore online Dovrà Esternalizzare Un provider esterno Il servizio Legato alle recensioni Non c'è un obbligo Di fare Questa esternalizzazione O di coinvolgere Un soggetto esterno C'è l'obbligo Di dire Se Il venditore Lo ha fatto O meno Qui Trovate Una Una sintesi Di quello Che ho detto In precedenza Quindi Il primo punto È legato Al posizionamento Alla classificazione Che viene data A un prodotto Rispetto A quello Di Un Un concorrente Quindi Il fatto Di non Indicare Che Ci troviamo Di fronte A una situazione Di Un annuncio A pagamento È considerata Un'azione Ingannevole Perché Non diamo Al consumatore Una corretta Rappresentazione Della Situazione Facciamo apparire Un prodotto Che sembra Migliore In base Ad altri Criteri Senza Indicare Il fatto Che quel prodotto È posizionato In Quella Maniera Perché Dietro C'è Una campagna Pagamento Promozionale Da parte Del Del produttore Del venditore Di quel prodotto Gli altri due punti Sono relativi Alle Recensioni Quindi Abbiamo Abbiamo Già Parlato Se io Venditore Non indico Nulla Sui criteri Ecco che Ho adottato O non ho adottato Per garantire Un'affidabilità Un'affidabilità Delle recensioni Questa è considerata Un'azione Ingannevole Così come Naturalmente È vietato Come dicevamo Stimolare Incaricare Soggetti terzi A eseguire Delle recensioni Non veritiere Non veritiere False Ovviamente Con il fine Ecco Di dare Una miglior Rappresentazione Del Del prodotto Rispetto Al consumatore Andiamo Su una tematica Particolarmente Calda In questo periodo Perché Come sapete Siamo Nelle Nelle settimane Del cosiddetto Black Friday E quindi Andiamo a vedere Quali sono Le novità Ormai in vigore Da luglio In relazione Agli annunci Di riduzione Dei prezzi Agli annunci Promozionali Di sconto Ripeto Si applica Sia Alle vendite Online Che alle vendite Nei negozi Fisici Quindi Quello che stiamo Per andare A vedere Deve essere Declinato Tanto nel mondo Digitale Quanto in vetrina O comunque Nel vostro Negozio Lo spirito È Abbastanza Chiaro Direi Andare A dare Dei Parametri Al consumatore Affinché Possa Effettivamente Valutare Lo sconto Che viene Proposto Dal venditore E che Vadano Si vada A evitare Quella Quella Prassi Malsana Di Annunci Di sconti Di sconti Falsi O comunque Gonfiati Non avendo Appunto Un obbligo Di dare Di dare Un parametro Di riferimento Quindi Che cosa è Stato previsto Che Ogni qualvolta Il venditore Voglia Fare Fare un'azione Che comporta Un annuncio Di sconto Un annuncio Promozionale Deve Quindi È un obbligo Deve Indicare Oltre Al prezzo Scontato Anche Un parametro Di riferimento E questo parametro Di riferimento È stato Indicato È stato Previsto Come il prezzo Più basso Applicato Dal venditore Nei 30 giorni Precedenti All'applicazione Della Riduzione Del prezzo Dietro Questa Semplice Se vogliamo Previsione Ci sono Diverse Eccezioni Diverse Casistiche La norma È stata Oggetto Sia Di Una Circolare Da parte Della Commissione Europea A cui Ha fatto Seguito Anche Un Intervento Le cosiddette FAC Da parte Del Ministero Del MISE Che prende Posizioni Su tanti Aspetti Che Ovviamente Possono Possono Esserci Dietro Questa Previsione Quindi Andiamo Dalle Eccezioni Ad esempio Ad esempio Questo Obbligo Non si Applica Ai prodotti Che hanno Un periodo Di Sopravvivenza Molto Breve Quindi Dei prodotti Agricoli Alimentari Che Deperiscono In Pochi Giorni Oppure Non si Applica Laddove Il prodotto Venga Lanciato Sul mercato Per la prima Volta E quindi Ci sia Un Prezzo Di lancio Ovviamente Non c'è Un Termine Di Paragone Precedente Oppure Non si Applica Alle Vendite Sotto Costo Che Trovano Una Disciplina Speciale In Un'altra Normativa L'obbligo Di Indicare Il Prezzo Più Basso Nei Trenta Giorni Precedenti È In Vigore Dal Primo Luglio Ieri Ecco Così Per Prepararmi A Questo Intervento Sono Andato A Vedere Il Sito Diciamo Più Famoso Di Vendite Online Amazon E In Effetti Direi Che Quanto Meno Sull'indicazione Del Criterio Del Prezzo Più Basso Mi Pare Così Sia Allineata E Quindi Nelle Prove Che Che Ho Fatto Venivano Indicati Sia Il Prezzo Scontato Che Il Prezzo Di Riferimento In Più Si Indicava Anche Un Prezzo Medio Calcolato Sembra Che Lì Sui Trenta Giorni Che È Un'interiore Indicazione Che Amazon Ha Deciso Di Dare Ma Non è Oggetto Di Obbligo Normativo Quindi Diciamo Che La previsione Quanto Meno Nel Mondo Online Poi Ecco Ho visto Anche Altre Altre Piattaforme È Stata È Stata Recepita Viene Recepita Sul Mondo Fisico Ecco Questo Forse Ha Un po' Più Di Difficoltà Ma Ripeto La Previsione Si applica Tanto Al Mondo Online Quanto Al Mondo Offline E Peraltro Viene Anche Chiarita In Una Delle Domande Riportate Nel Documento Del Mise Che Ho citato E Il Link A cui Puoi Poter Far Riferimento Poi Eventualmente Lo Condivideremo Con i Materiali Viene Chiarito Che I Due Canali Online E Offline Devono Essere Tenuti Distinti Quindi Se Uno Decide Di Applicare Uno Sconto Per Un Prodotto Che Viene Venduto Nel Negozio Il Prezzo Di Riferimento Sarà Quello Applicato Nel Negozio E Lo Stesso Se Un Prodotto Viene Venduto Anche Online Questo Ovviamente Se c'è Una Differenza Tra Il Prezzo Che Un Venditore Applica Nell'ambito Online Il Prezzo Che Un Venditore Applica Sempre Per Lo Stesso Prodotto Nel Mercato Tradizionale Offline Qui Trovate Qualche Esempio Una Spiegazione Un po' Più Particolareggiata Dell'applicazione Dell'obbligo Di Indicare Il Prezzo Più Basso Quindi Il Prezzo È Quello Inteso Nei 30 Giorni Precedenti L'applicazione Dello Sconto Ci Sono Come ho Detto Diversi Casi Diverse Situazioni Pensiamo Agli Sconti Progressivi Sconti Progressivi Sono Intesi Quelle Azioni Promozionali Che Partono Da Un Determinata Percentuale Di Sconto Per Poi Incrementarsi Ogni Giorno Ed È Stato Chiarito Che Il Prezzo Di Riferimento Deve Essere Il Prezzo Originario Quindi Il Primo Il Primo Della Catena Ma Così Ci Sono Veramente Ecco Molte Molte Situazioni Ma Direi Che Ecco Il Documento Preparato Dal Mise Così come Le Osservazioni Fatte Dalla Commissione Europea Direi Che Coprono Coprono La maggior Parte Dei Dei Dubbi Che Un Venditore Giustamente Può Avere Passando Agli Obblighi Informativi Quindi Quelle Informazioni Che Il Venditore Deve Necessariamente Dare Al Proprio Cliente Consumatore Prima Che Quest'ultimo Proceda Con Il Pagamento Con L'ordine Sono Stati Introdotti Ulteriori Obblighi Informativi Rispetto A Quelli Già Esistenti Questo Vuol Dire Che In Generale Ma Con Particolare Riferimento Agli Obblighi Informativi È Opportuno Che Il Venditore Specialmente In Questo Caso Il Venditore Online Metta Mano Alle Proprie Condizioni Generali Metta Mano Al Proprio Sito E Valuti Appunto Di Integrare Laddove Non Siano Presenti Queste Ulteriori Informazioni Che Vengono Adesso Richieste Valuti Appunto Di Integrarle Al Fine Ovviamente Di Non Incorrere Impossibili Impossibili Sanzioni Impossibili Segnalazioni Anche Da Parte Non Solo Se vogliamo Del Consumatore Ma Anche Di Qualche Magari Concorrente Che Utilizza Anche Queste Situazioni Per Trarre Vantaggio Comunque Mettere In Difficoltà I Propri Competitor Quindi È Stato Chiarito Che Il Venditore Ecco Deve Richiamare L'esistenza Della Garanzia Legale Di Conformità E Quindi Che Cosa Come Andremo A Vedere Ha Diritto Il Consumatore Laddove Ritenga Che Ci Sia Un Vizio Che Il Prodotto Non Sia Conforme A Quello Si Aspettava Così come L'esistenza Le Condizioni Di Un Eventuale Servizio Di Post Vendita O Se Ci Sono Delle Garanzie Convenzionali Applicabili Alla Vendita Andremo 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 Vedere Che Cosa Si Intende Per Garanzia Convenzionale Quindi È Un Concetto Diverso Dalla Garanzia Legale Ci Sono Poi Ulteriori Obblighi Informativi In Relazione A I Beni Digitali I Servizi Digitali Sempre Nell'ottica Di Allineare Il Quadro Normativo All' All' Evoluzione Digitale Per Quanto Riguardo Il Recesso Recesso È Un Tema Che Poi Verrà Trattato Anche Dal Collega Lombardi Nella Seconda Parte È Bene Evidenziare Una Novità Importante Cioè L'estensione Da I Consueti 14 Giorni Che Sono Previsti A favore Del Consumatore Per Appunto Recedere Anche Senza Motivo Dal Dal Contratto Un'estensione Che Porta Da 14 A 30 Giorni Per Di Recesso Nel Caso In cui Il Contratto Venga Concluso A Seguito Di Una Visita Non Richiesta Da Parte Del Professionista Al Domicilio Del Consumatore Quindi Anche Qui Si è Voluto Tutelare Maggiormente Il Consumatore Che si Vede Arrivare Un Professionista Al Domicilio E In Una Situazione Ecco Così Che Non è Stata Richiesta Dal Consumatore Quest'ultimo Conclude Un Contratto In Relazione Al Quale Adesso Non ha A disposizione 14 Giorni Ma Bensì 30 Giorni Per Recedere Per Sciogliersi Da Da Questo Contratto Quindi Anche In Questo Caso La Modifica Comporta Una Conseguente Modifica Delle Condizioni Generali Di Vendita Comunque Delle Previsioni Delle Delle Clausole Dei Disclaimer Che Sono Presenti Sul Sito Comunque Sulle Condizioni Applicate Dal Venditore A favore Dei Consumatori Infine Direi Che Come Tempistiche Ci siamo È Stata Introdotta Un'importante Novità A favore Ovviamente Del Consumatore E cioè Quella Di Poter Agire Direttamente Davanti A un Giudice Ordinario Senza Dover Quindi Attendere L'eventuale Istruttoria E Decisione Sanzione Da parte Dell'autorità Garante Quindi Prima Il Consumatore Poteva Sì Attivarsi Per Sollevare Ecco Delle Contestazioni Per Rimarcare Delle Azioni Ingannevoli Da parte Di Un Professionista Ma Lo Doveva Fare Tendenzialmente All'autorità Garante La Concorrenza Del Mercato Mentre Adesso Può Rivolgersi Direttamente A Giudice Ordinario Per Ecco Ottenere Un eventuale Risarcimento Del Danno Per Ottenere Una Riduzione Del Prezzo O Una Risoluzione Nei casi Più Gravi Del Contratto Quindi Questa È Un'importante Novità Che Ovviamente Deve essere Tenuta Presente Dal Venditore Unitamente All'aspetto Sanzionatorio Quello Che Andiamo A Valutare A Conclusione Del Del Mio Intervento Perché Le Sanzioni Sono Stato Oggetto Di Modifica Nel Senso Che È Stato Innalzato In massimo Dittale Da 5 A 10 Milioni Le Sanzioni Vengono Stabilite Dall'autorità Garante Della Concorrenza Del Mercato Dopo Un'approfondita Istruttoria E Sono State Anche Chiariti I Criteri In base Quali L'autorità Va A Determinare La Sanzione Che Sono Quelli Che Vedete Qui Evidenziati Ovvero Si fa Riferimento Innanzitutto Alla Natura Della Violazione Alla Gravità All'entità Alla Durata Della Violazione E Fate Attenzione Alle Eventuali Azioni Intraprese Dall'professionista Quindi Come dire L'autorità Riconosce Anche Eventuale L'equazione Correttiva Che Il Professionista Mette in Atto Subito Dopo Che Gli viene Contestata La Sua Condotta E Questo Ovviamente Dovrebbe Comportare Una Sanzione Minore Rispetto A quella Potenzialmente Applicabile Ci Sono Poi Appunto Delle Previsioni Anche Sulla Possibilità Di Da Parte Dell'autorità Di Sanzionare Il Venditore Anche In tema Di Clausule Vessatorie Che Poi Andremo A vedere Con L'avvocato Lombardi Che Prima Invece Era Un oggetto Di Una Sanzione Diciamo Normativa Giuridica Nel senso Che Veniva Eliminata Non Trovava Applicazione La Clausula Vessatoria Mentre Adesso Oltre A non Trovare Applicazione Può Comportare Anche L'applicazione Di Una Sanzione Pecuniaria Io Mi Avvierei Verso La Conclusione Ringraziandovi Per L'attenzione Direi Che A questo Punto Non so Se Vogliamo Fare Una Pausa Oppure Continuiamo Con La Garanzia Sì Allora Andiamo Andiamo Avanti Sulla Garanzia Garanzia Dei vizi Abbiamo Visto Prima Che Nell'ambito Del Codice Del Consumo Ci può Essere Una Garanzia Legale Che Una Garanzia Inderogabile Tutti I Venditori Devono Offrire Al Proprio Consumatore E Poi Una Garanzia Convenzionale Che Invece Vedremo Come Già Fa Pensare La Parola È Una Garanzia Facoltativa Che Si Dà In Aggiunta Rispetto A Quella Legale Nell'ambito Dei vari Interventi Questi Non Riconducibili Direttamente Alla Direttiva Omnibus Ma Sempre Riconducibili A Migliorare La Protezione Del Consumatore Anche Questa Tematica Della Garanzia Edizia È Stata Oggetto Di Una Recente Modifica Legislativa Qui Trovate I Riferimenti Degli Articoli Del Codice Del Consumo Sono Tendenzialmente Dall'articolo 128 in avanti E Abbiamo Indicato Le Principali Tematiche Che Il Codice Di Consumo Tratta In Relazione Alla Garanzia Dei Vizi Quindi Innanzitutto L'ambito Di Applicazione Che Cosa Si Intende Per Conformità Del Bene Quali Sono Gli Obblighi Del Venditore E Anche Le Condotte Che Si Chiedono Al Consumatore Viene Ecco Prevista Una Disciplina Specifica Sull'installazione Dei Beni Che È Sempre Stato Un Tema Abbastanza Dibattuto E Su Cui Si Si Accendevano Le Discussioni Tra Professionista E Consumatore È Stato Messo Mano Anche Al Diritto Di Regresso Come Vedremo Il 135 Bis Indica Quali Sono I Rimedi Che Il Consumatore Ha A Propria Disposizione Laddove Il Prodotto Non Sia Ritenuto Conforme E Per Finire Appunto Si Si Danno Delle Indicazioni Su Come Deve Essere Oggetto Di Informativa E Disciplina La Garanzia Convenzionale Per Concludere Con Un Carattere Imperativo Delle Disposizioni Che Significa Che Tutte Le Norme Previste Nel Codice Del Consumo Tendenzialmente Non Possono Essere Oggetto Di Deroga Sfavore Del Consumatore Quindi Ecco Anche Laddove Voi Abbiate Delle Condizioni Generali Che Derogano Qualche Aspetto Del Disciplina Codicistica E Anche Laddove Queste Siano Stato Oggetto Di Sottoscrizione Consenso Da parte Del Consumatore Di fronte A un giudice Di fronte A un'autorità Queste Clausole Non Troverebbero Applicazione Come Dicevo Prima C'è Stato Un Intervento Legislativo Che Risale Alla 2022 Vengono Introdotte Delle Novità Direi Abbastanza Rilevanti Che Andiamo Brevemente Ad Analizzare Innanzitutto Nel Concetto Di Conformità Del Bene Vengono Indicati Dei requisiti Soggettivi E Dei requisiti Oggettivi Una distinzione Che prima Non Non C'era Quali Sono I requisiti Soggettivi Li vedete Indicati Nella Slide Beh Innanzitutto Un bene E conforme Al contratto Quando Corrisponde Alla Descrizione Alla Tipologia Quantità Qualità Indicata Indicata Nel Contratto E Possiede Tutte le Caratteristiche Di Funzionalità Compatibilità Previste Nel Contratto Stretto Quindi ci sia Una Corrispondenza Tra ciò che viene Indicato Nel Contratto E ciò che Poi Effettivamente Lo Stato Lo Stato Di Fatto Un Bene Conforme Quando È Idoneo All'uso Particolare Richiesto Dal Consumatore E che Naturalmente Il Consumatore Ha Comunicato Al Venditore Prima Di Procedere All'acquisto E quindi Di Concludere Il Contratto E che Questo Uso Particolare Sia Stato Oggetto Di Un'accettazione Da parte Del Venditore E Conforme Anche In Relazione Agli Accessori E Le Istruzioni Anche Con Riferimento All' Installazione Quindi Si allarga Il concetto Di Conformità Anche Agli Eventuali Accessori E Al Manuale Alle Istruzioni Che Vengono Fornite Dal Venditore Così come Agli Eventuali Aggiornamenti Previsti Dal Contratto Soprattutto Ecco Se Pensiamo Ai Veni Digitali I profili Oggettivi I requisiti Oggettivi Sono Tendenzialmente Ecco Questi Che Abbiamo Sintetizzato Nella slide Che vedete E Sono Quindi Un'idoneità Allo Scopo E Questa Idoneità Viene Valutata Prendendo Come Riferimento Beni Dello Stessa Tipologia Se C'è Stata Una Una Presa Visione O Comunque Il Venditore Ha Esposto Un Modello Un Campione Su Cui Il Consumatore Si è Basato Ecco Deve Eserci Una Corrispondenza Tra Quello Che Viene Poi Effettivamente Venduto E Il Campione Il Modello Mostrato Anche Qui C'è Un Richiamo Al Fatto Che Gli Accessori L'imballaggio Le Istruzioni Devono Essere Ecco Ragionevolmente Allineate Con Le Aspettative Che Un Consumatore Può Di Regola Attendersi Ovviamente In Relazione Al Mercato Alla Tipologia Alla Settore E Al Tipo E Al Tipo Di Prodotto L'ultimo L'ultimo punto E' un punto Importante Perché Un bene Un elemento Che può essere Preso in considerazione Per capire Se il bene E conforme O meno E anche Quanto Viene Detto Dal venditore Nell'ambito Di un'eventuale Pubblicità O etichettatura Quindi Se il venditore Promette Determinate Caratteristiche O comunque Richiama Determinate Qualità E poi Queste qualità Non sono Presenti O comunque Il consumatore Ne Contesta La Mancanza Questo Può essere Un elemento Che può portare A ritenere Un bene Non conforme Quando è che Invece Non vi è Un difetto Di Conformità Del bene Quando Il venditore Ha Prima Che il contratto Fosse Fosse Terminato Informato Debitamente Il consumatore Del fatto Che Quella Determinata Caratteristica Quella Determinata Qualità Non Fosse Presente O comunque Si Discostava Dai Parametri Che abbiamo Visto Prima E E Allo stesso Tempo Non vi è Un difetto Di Conformità Quando È stato Il consumatore È stato Informato E Ha accettato Il fatto Che Il prodotto Mancasse Di una Determinata Di un Determinato Requisito Allora Qui È importante Anche Per il Venditore Avere Un Un Flusso Contrattuale Quindi Se vogliamo Un Dei Contratti Delle Previsioni Contrattuali Che vadano Ben A Supportare Questa Eventuale Situazione Anche Con Una Documentazione Appropriata Laddove Poi Il Consumatore Contestasse Un'eventuale Mancanza Di Caratteristiche O Comunque Una Non Conformità Del Bene Quindi Sarà Poi Onere Del Venditore Dimostrare Che Aveva Informato Il Consumatore Questo Aveva Anche Accettato Questa Mancanza Come Ho Detto Prima La Modifica Del 2022 Ha Investito Anche La Parte Relativa All' Installazione Del Prodotto E Quindi È Stato Chiarito Che Di Regola L'Installazione Può Essere Un Elemento Da Considerare Nell'ambito Della Vendita Del Prodotto Quindi Se c'è Un problema Legato All'installazione Questa Può Essere Oggetto Di Contestazione E Rientrare Nell'ambito Della Non Conformità Del Bene Ci Ci Sono Però Delle Eccezioni Le Eccezioni Sono Se L'installazione È Considerata Un Difetto Di Conformità Se Innanzitutto È Prevista Nel Contratto Di Vendita E Se Viene Eseguita Direttamente Dal Venditore O Sotto La Sua Responsabilità Quindi Se Io Compro Una Caldaia E Nell'ambito Del Contratto Di Vendita O Anche Acquistato Il Servizio Di Installazione Comunque Indicato Anche Servizio Di Installazione Fatto Direttamente Dal Venditore O Anche Fatto Da Un Suo Sub Sub Paltatore Comunque Sul Fornitore Ma Il Venditore E Comunque Responsabile Allora Una Eventuale Rata Installazione Può Essere Considerato Un Difetto Di Conformità E Rientrare Quindi Nelle Protezioni E Nei Rimedi Che Andremo A Vedere Oppure L'installazione Può Essere Comunque Considerato Un Difetto Di Conformità Anche Se È A Carico Del Consumatore Ma L'errata Installazione Dipende Da Una Carenza Nelle Istruzioni Fornite Dal Venditore Quindi Anche In questo Caso Pongo Un Campanello D'allarme Soprattutto Per I Professionisti Di Fare Attenzione Alla Disciplina Dell' Installazione Chiarire Bene Se L'installazione È Coperta Dal Contratto Di Vendita Quindi Fa Parte Di Un Pacchetto Unico Oppure Invece Se Non Ne Fa Parte E A Quel Punto È Necessario Valutare Ecco Se Il Bene Deve Sare Installato Che Ci Sia Un' Adeguata Documentazione Delle Adeguate Istruzioni Quali Sono I Rimedi Che Ha Disposizione Il Consumatore Nel Caso In Cui Ritenga Che Un Bene O Come Abbiamo Visto L'installazione Dello Stesso Non Sia Conforme Innanzitutto Ha Diritto Al Ripristino Della Conformità Ripristino Che si attua O con la Riparazione O con la Sostituzione Del Bene Se La Riparazione O la Sostituzione Non sono Possibili O insomma Non vengono Eseguite Nei modi Previsti Della Legge Il Consumatore Ha Diritto A Una Riduzione Proporzionale Del Prezzo E In Ultima Istanza Come Ultimo Rimedio Il Consumatore Ha Diritto Alla Risoluzione Del Contratto Risoluzione Del Contratto Che Quindi Comporta Lo Scioglimento Del Legame Con La Restituzione Del Bene E La Restituzione Del Corrispettivo Ci deve essere Una Proporzionalità Nella Richiesta Da parte Del Consumatore Quindi Quello Che Vedete Vedete Indicato In ABC Ecco È una Sorta Di Scaletta A cui Far Riferimento Quindi Partire Subito Con Una Richiesta Di Reduzione Del Contratto Soprattutto Se La Non Conformità Non È Così Grave Potrebbe Poi Essere Considerata Una Richiesta Non Proporzionale Quindi Non Accolta Da Un Eventuale Giudice Quindi Bisogna Capire Innanzitutto L'entità Della Non Conformità Se Non Conformità Grave O Lieve Poi Ovviamente Sono Tutti Concetti Vuol dire Che Possono Essere Declinati Tanto Dal Consumatore Quanto Al Venditore Quanto Da Un Giudice In Maniera Abbastanza Discrezionale Però Il Principio Ecco Che Sta Alla Base E Quello Che Ho Detto Prima Una Proporzionalità Tra La Non Conformità Contestata E Rimedio Anche Perché Lo Stesso Codice Ti Dice Che Se Il Rimedio Scelto Dal Consumatore Comporta Un'eccessiva Onerosità A carico Del Venditore O Comunque È Un Rimedio Impossibile Da Da Applicare Allora Si Andranno A Valutare Altri Rimedi Che Invece Possono Essere Attuati Dal Venditore Senza Un'eccessiva Onerosità La Prova Che La Non Conformità E Di Lieve Entità È In Capo Al Venditore Quindi Rimane Quanto Detto Prima Che Sono Dei Concetti Abbastanza Laschi Però È Importante Evidenziare Che Il Fatto Che Si Voglia Qualificare Una Non Conformità Come Lieve È In Capo Al Venditore Che Quindi Dovrà Dovrà Dare Prova E Fornire Le Proprie Giustificazioni Per Considerare Questa Non Conformità Di Lieve Entità C'è Una Presunzione Legale Che Ecco Fa Sì Che Un Eventuale Difetto Sia Comunque Imputabile Al Venditore Laddove Si Manifesti Entro Un Anno Dalla Consegna Tenete Presente Che Prima Questo Periodo Di Presunzione Era Di Sei Mesi Quindi È Stato Esteso Da Sei Mesi Un Anno Che Vuol Dire Che Se Nell'ambito Di 12 Mesi Si Manifesta Una Non Conformità Questa Viene Ecco In Maniera Abbastanza Oggettiva Imputata Al Venditore Come Una Presunzione Poi Starà Al Venditore Eventualmente Vincere Questa Presunzione Dando Dando Le proprie Difese E L'ultimo Punto Che trovate È un altro Punto Importante Perché Il Consumatore Può Rifiutarsi Di Eseguire Il Pagamento Di Qualsiasi Parte Di Prezzo Fino A Quando Il Venditore Non Adempiuto Ai Propri Obblighi Quindi La Classica Diciamo Eccezione Di Inadempimento Cioè Se tu Non Adempi Alle Tue Obbligazioni Non Mi Mette Posto Non Sostituisci Il Prodotto Io Consumatore Posso Rifiutare Di O Procedere Al Saldo O Eseguire Un Pagamento È Chiaro Che Sull'online Questo Tipo Di Situazione Si Verifica Direi Meno Perché Tendenzialmente Il pagamento Viene Fatto Al Momento Dell'Ordine Però Sappiate Che C'è Questa Possibilità Sui Termini Di 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 Attivazione Delle Della Garanzia Qui È stata Fatta Un'importante Modifica Perché La durata Della Garanzia È Rimasta Due Anni Dalla Consegna Quindi Non c'è Stata Una Modifica Sul Periodo Sul Periodo Di Diciamo Durata Della Garanzia Per Inizi Quindi L'azione Viene Può Essere Esperita Da parte Di Un Consumatore Nell'arco Di 26 Mesi Perché Si Stengono Appunto 24 Mesi Più Due Mesi Di Diciamo Di Tempo Che Erano Legati Alla Denuncia Del Vizio Denuncia Del Vizio Che Però È Stato Tolto Come Incombente In Capo Al Consumatore Prima Era Obbligatorio Appena Di Decadenza Della Garanzia Di Denunciare Il Difetto Quindi Il Consumatore Doveva Denunciare Il Difetto Entro 60 Giorni Questi Due Mesi Che Di Cui Ho Detto Prima E Invece Con Questa Modifica Legislativa Del 2022 Non è più Necessaria Una Denuncia Di Vizio Ma Rimane Questo Termine Di Due Anni Per Poter Appunto Chiedere Chiedere Un Intervento In Garanzia Ovviamente Questa È Un'ulteriore Tutela A favore Del Consumatore Che Quindi Non Dovrà più Denunciare Obbligatoriamente Il Inizio Comunque Non Sarà Considerata Una Condizione Necessaria Per Attivare La Gananzia Di Inizio Il Diritto Di Regresso Il Diritto Di Regresso È Quel Diritto Che Il Venditore Finale Quindi L'ultimo Soggetto Della Catena Che Vende Il Bene Al Consumatore Può Esercitare Nei Confronti Del Soggetto Che L'ha Preceduto Quindi Se Pensiamo Non so A un Distributore O al Produttore Laddove Il Difetto La Non Conformità Sia Attribuibile Al A Questo Soggetto L'azione Di Regresso Ha Una Tempistica Determinata Che Non È Stata Modificata Quindi Rimane Un Anno Dall'esecuzione Della Prestazione A favore Del Consumatore Quindi Se Il Venditore Finale Ha Sostituito Il Bene Dal Momento Della Sostituzione Scatta Questo Anno Entro Il Venditore Può Chiedere Al Proprio Distributore Al Produttore Del Bene Di Essere Risarcito Diciamo Di Essere Tenuto Indenne Nella Sostituzione Sempre Che Ovviamente La Non Conformità Dipenda Dal Produttore Comunque Dal Soggetto Che Ha Venduto Al Venditore Finale Il Prodotto Nell'intervento Del 2022 È Stato Eliminata La Parte Come Vedete Indicata Del Salvo Diverso Accordo In molte Condizioni Generali Di Fornitura Veniva Escluso Il Diritto Di Regresso Quindi Il Produttore Vendeva Il Proprio Bene Al Venditore Negoziante Ma Lo Vendeva Con L'esclusione Del Diritto Di Regresso Ora Facendo Leva Appunto Sulla Previsione Contenuta Nel Codice Del Consumo Del Salvo Diverso Accordo Quindi Nell'ambito Di un Rapporto B2B Tra Produttore E Rivenditore Era Prevista La Facoltà Di Escludere Il Diritto Di Regresso Quindi Tutte Le Azioni Legate Alla Garanzia Erano Oggetto Di Intervento Solamente A carico Del Venditore Ci si chiede Se Con L'eliminazione Di Questo Salvo Diverso Accordo Rimanga Sempre Questa Possibilità Oppure Sia A questo Punto Non si Possa Più Escludere Il Diritto Di Regresso Nell'ambito Dei Rapporti Tra Un Distributore Un Produttore E Il Proprio Rivenditore Garanzia Convenzionale Garanzia Convenzionale È Un Concetto Da Tenere Distinto Dalla Garanzia Legale Che Abbiamo Visto Prima Garanzia Legale Non Può Essere Esclusa Il Consumatore Ha Sempre Diritto A Una Garanzia Legale Nei Termini Che Abbiamo Indicato Il Venditore Può Aggiungere Alla Garanzia Legale Una Garanzia Convenzionale Quindi Una Garanzia Ulteriore Ad Esempio Può Aumentare I Termini Della Garanzia Abbiamo Visto Che Sono La Garanzia Legale Dura Due Anni Può Estenderli A Cinque Anni Dieci Anni Come Capita Anche In Alcuni Settori Oppure Può Andare A Offrire Delle Garanzie Ulteriori Accessori Che Vanno A Coprire Ulteriori Aspetti Insomma Può Andare Appunto Ad Aggiungere Oltre A Quanto Previsto Già Per Legge Qualcosa Di Ulteriore L'importante E Che Lo Faccia Con Determinate Caratteristiche E Qui Le Vedete Ecco Riassunte In Sintesi Cioè Viene Dato Di nuovo Risalto Alla Pubblicità Che Viene Fatta Quindi Fatta Attenzione A Come Vengono Date Certe Tipo Di Informazioni Perché Poi Possono Ecco Essere Ritenute Vincolanti O Comunque Dei Parametri Su Cui Eventualmente Basare Le Contestazioni Del Consumatorio Devono Essere Date In Maniera Ovviamente Comprensibile Semplice Qui c'è Un Richiamo Anche La Lingua Italiana Quindi Se ci Sono Delle Garanzie Convenzionali Che Magari Vengono Date Dal Produttore Ebbene Eventualmente Dare Una Traduzione Anche Anche In Italiano E Devono Essere Date Su Supporto Durevole Che Quindi Dia La Possibilità Al Consumatore Di Poterle Scaricare Salvare Se Siamo Nell'ambito Dell Offline Così Come Previsto Per Le Garanzie Le Condizioni Generali Vendita Bene Allora Spero Che Mi Sentiate Tutti E Che Riusciate A Vedere La Presentazione Allora Buongiorno A Tutti Voi Come Ho Anticipato Ecco Prima Dell'inizio Della Pausa L'idea Adesso È Quella Di Fare Un Focus Sulla Materia Degli Obblighi Del Venditore E Le Tutele Del Consumatore In Caso Di Vendita Online Qui Come Potete Immaginare La Materia È Davvero Molto Vasta Perché Quando Si Fanno Dei Focus Sulla Materia Della Vendita Online Ai Consumatori Davvero Gli Elementi Da Tenere In Considerazione Sono Molteplici Tenuto Anche Conto Del Tempo Che Ho A Disposizione Ho Dovuto Quindi Per Forza Fare Delle Scelte Sugli Argomenti Da Trattare Che Comunque Penso Siano Scelte In Ogni Caso Abbastanza Esaustive Perché Tratterò Dal Mi Punto Di Vista Fondamentali Principali Che Devono Essere Tenuti Presente Quando Ci Si Accinge A Vendere Online Questo È Un Po Il Risultato Delle Mie Scelte Quindi L'idea All'inizio È Quello Di Fare Un Quadro Introduttivo Di Riferimento Degli Obblighi Informativi Che Il Venditore Deve Rispettare Quando Si Accinge A Vendere Online E Questi Sono Obblighi Che Deve Rispettare Tanto Nell'e-commerce Verso i Professionisti Quanto Nell'e-commerce Verso i Consumatori Quindi Normativa Di carattere Generale Che Normativa Introdotta Dal Decreto Legislativo 70 Del 2003 Di Attuazione Della Direttiva Risalente Nel Nel Tempo La 31 Del 2000 Sul Commercio Elettronico Dopodiché Entrando Proprio Nel Vivo Dell'argomento Delle Vendite Online Ai Consumatori Riprenderei La Tematica Del Diritto Di Refesso Che Come Abbiamo Visto Prima Della Della Pausa Un Diritto Garantito Al Consumatore Nel Caso Di Vendite Online E Farei Questo A Completamento Di Quanto Già Esposto In Precedenza Dal Mio Socio Nicolo Maggiora Infine Tratterei La Materia Delle Clausole Versatorie Nei Rapporti Di Vendita Con I Consumatori E Senz'altro Un Argomento Molto Caldo Che Va Ad Impattare Anche Sulla Redazione Delle Condizioni Generali Di Vendita Ai Consumatori In Questa Parte Cercherò Anche Di Fare Anche Degli Esempi Pratici Proietterò Degli Esempi Di Clausole Che Sono Da Considerare Vessatorie In Modo Tale Da Poter Fare Anche Dei Ragionamenti In Concreto Con Voi Quindi Visto Qual È Un Po Il Programma Di Questo Focus Comincerei Dal Come vi Dicevo È L'argomento Relativo Al Decreto 70 Del 2003 Sul Commercio Elettronico Ripeto È Una Normativa Ovviamente Di Derivazione Unionale Il Legislatore Dell'Unione Europea Ha dettato Ormai Da più Di 20 Anni Delle Regole Sul Commercio Elettronico Che Devono Essere Rispettate Tanto Nei Rapporti Con I Professionisti Quindi Nel Commercio Elettronico B2B Quanto Nei Confronti Dei Consumatori Vorrei Fare Una Premessa Sul Decreto 70 Perché Quanto Sto Per Dirvi Riguarda Unicamente I Requisiti Relativi Alle Attività Di Commercio Online Non Comprende Innanzitutto I requisiti Legali Relativi Alle Merci Cosa Vuol Dire Questo Pensate Ad Esempio A Vendite Non Lo So Di Dispositivi Medici Online Ovvio Che La Direttiva Sul Commercio Elettronico Non Mi Va A Dire Quali Sono I Requisiti Legali Relativi Alle Merci Che Devono Essere Vendute Online Quindi Requisiti Legali Di Un Dispositivo Elettronico Perché Quello Fa Con La Normativa Specifica Di Settore E Poi Non Riguarda Nemmeno Questa Normativa Le Autorizzazioni Previste Da Disposizioni Dell'Unione Europea O Disposizioni Nazionali Per La Vendita Pensiamo Ad esempio Alle Vendite Di Bevande Alcoliche Beh In Questo Caso La Direttiva Sul Commercio Elettronico Non Mi Dice Quali Sono Le Autorizzazioni Previste Per La Vendita Di Vedande Alcoliche Online Perché È Ovvio Che C'è Una Normativa Anche Qui Specifica Di Settore Che Può Essere Dell'Unione Europea O Nazionale Per Quanto Riguarda Le Autorizzazioni Che Devono Essere Ottenute Per Poter Vendere In Generale Mettere Sul Mercato A Prescindere Dall'Online Determinati Beni Qui Ho Premesso Ho Fatto Un Elenco Riassuntivo Dei Principali Aspetti Disciplinati Dal Decreto 70 Innanzitutto Il primo Punto L'assenza Di Autorizzazione Preventiva È Bene Ricordare Sempre Che Il Decreto 70 È Proprio Quel Decreto Che Sancisce Il Principio Generale Secondo Cui L'esercizio Del Commercio Online Non È Soggetto Ad Una Autorizzazione Preventiva Ovvio Sempre Salvo Ripeto Disposizioni Comunitarie O Nazionali Per Quanto 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 Requisiti Legali Relativi Alle Merci Da Vendere Oppure Autorizzazioni Alla Vendita Di Determinate Merci Di Determinati Beni Però Se Non ci Sono Problemi Ecco Limitazioni Dal Punto Di Vista Dei Requisiti Che Devono Avere Le Merci Per Poter Essere Immesse Sul Mercato Oppure Autorizzazioni In Generale Il Commercio Elettronico Non È Soggetto A Autorizzazioni Preventive C'è Poi Un Lungo Elenco Di Informazioni Generali Che Sono Come Vedete Qua Obbligatorie E Da Tenere Costantemente Aggiornate Che Devono Essere Date Al Mercato Quando Ci Si Accinge A Fare Vendite Online L'elenco È Davvero Molto Lungo Scusatemi Io Non Me Lo Ricordo A Memoria Quindi Ce L'ho Qua Sotto Pio Ve Lo Leggo Quali Sono I Dati Che Devono Essere Resi Noti Facilmente Accessibili In Modo Diretto Permanente Ecco Sulla Piattaforma Online Che Voi Utilizzate Per Vendere Allora Sono I Dati Vostri I Dati Del Venditore Quindi Il Nome La Denominazione O La Ragione Sociale Il Domicilio O La Sede Legale Quindi A seconda Che Si Operi Come Ditte Individuale Oppure In Forma Societaria Gli Estremi Dice Il Decreto 70 Che Permettono Di Contattare Rapidamente Il Prestatore E Comunicare Direttamente Ed E E Ficchiacemente Con Lo Stesso Quindi In Una Piattaforma Online Dobbiamo Sempre Indicare Quali Sono Gli Indirizzi Ai Quali Ci Si Deve Rivolgere Per Comunicare Con Il Venditore E Compreso L'indirizzo Di Post Elettronica Il Numero Di Iscrizione Al Repertorio Delle Attività Economiche Quindi Il Cosiddetto REA Il Numero Di Iscrizione Al Registro Dell' Imprese Il Numero Della Partita IVA E Questi Sono I Dati Del Venditore Ma Poi Anche I Prezzi I Prezzi Devono Essere Sempre Tenuti Sulla Piattaforma E Evidenziando Se Comprendono Imposte Costi Di Consegna E Altri Elementi Aggiuntivi Da Specificare Eventualmente Se Vanno A Comporre Il Prezzo Quindi Ci Deve Essere Secondo Il Decreto 70 Una Indicazione Molto Trasparente E Poi L'indicazione Delle Attività Consentite Dal Consumatore E Questo Lo Vedremo In Seguito Perché Riguarda Essenzialmente Il Diritto Di Recesso Queste Informazioni Ripeto Devono Essere Tenute Costantemente Aggiornate Ogni Volta Che Si Cambia Un Elemento Relativo A Queste Informazioni In Tempo Reale La Modifica Va Fatta Sulla Piattaforma Per Quanto Riguarda Gli Obblighi Di Informazione Per La Comunicazione Commerciale Tendenzialmente Il Decreto 70 Fa Riferimento All'uso Della Pubblicità Promozionale Quindi Il Focus Da Parte Del Legislatore Sugli Obblighi Di Informazione Per La Comunicazione Commerciale Essenzialmente È Legato Alla Pubblicità Promozionale Qui Quando Si fa Pubblicità Promozionale Dice Il Legislatore Si deve Dare Sin dal Primo Invio Perché Stiamo Parlando Di Modalità Elettroniche Che Possono Essere Utilizzate In Diversi Modi Con Mail Di Pubblicità Promozionale Piuttosto Che Banner Ecco Sin dal Primo Invio In modo Chiaro In Inequivocabile Bisogna Dare Una Specifica Informativa E Questa Informativa Deve Evidenziare Che Si Tratta Di Una Offerta Promozionale Quindi Tutto Quello Che È Legato Al Mondo Degli Sconti Dei Premi Degli Omaggi E Anche Tutte Le Condizioni Per Fruire Di Sconti Premi E Omaggi Deve Essere Appunto Data L'informazione Sulla Pubblicità Promozionale In Modo Molto Trasparente Ed Esaustivo Per Quanto Riguarda Le Comunicazioni Commerciali Non Sollecitate Bisogna Fare Attenzione A Non Fare Il Cosiddetto Spamming Quindi Le Comunicazioni Commerciali Non Sollecitate Trasmesse Per Post Elettronica Devono Anche Qui In modo Chiaro E Inequivocabile Essere Identificate Come Comunicazioni Commerciali Non Sollecitate In 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 Modo Tale Che Il Destinatario Quando Le Riceve Ha All'interno Di Questa Comunicazione Un Contenuto Secondo Cui L'indicazione Ecco Deve Essere Quella Secondo Cui Il Destinatario Può Opporsi A Ricevimento In Futuro Di Queste Comunicazioni Questo Pensiamo Ecco Alla Vita Quotidiana Di Tutti I Giorni Quando Ci Arriva Nella Nostra Post Elettronica Personale Della Pubblicità Commerciale Quindi Comunicazioni Non Sollecitate Sappiamo Sempre Che C'è Il Cosiddetto Link Del Unsubscribe Quindi La Possibilità Sempre Di Opporsi Al Ricevimento In Futuro Di Queste Comunicazioni Commerciali Quindi Aver Sempre La Possibilità Di Potersi Slegare Della mailing list Di Riferimento Per Quanto Riguarda Le Informazioni Invece Dirette Alla Conclusione Del Contratto Qui Coloro Che Fanno Vendite Online Anche Qui Sempre In Modo Chiaro Comprensibile Inequivocabile Prima Dell'inoltro Dell'ordine Da Parte Del Compratore Devono Essere Date Alcune Informazioni Che Anche Qui È un Elenco Piuttosto Preciso Preferisco Tenerlo Sott'occhio Perché Non me lo Ricorda Memoria In tutta Franchezza Innanzitutto Le Informazioni Sono Quelle Legate Alle Varie Fasi Tecniche Da Seguire Per La Conclusione Del Contratto Quindi Preferisco Fare un Esempio Pensiamo A Quando Non so Acquistiamo Un Volo Aereo Online Ecco Voi Vi Vi Ricordate Quando Acquistate Un Volo Aereo Online La Piattaforma A cui Fate Riferimento Vi Indica In maniera Molto Puntuale Quali Sono Le Fasi Tecniche Da Seguire Per La Conclusione Del Contratto Quindi Vai A Scegliere Il Volo Vai A Scegliere L'orario E Poi Vai A Scegliere Il Ritorno E Poi Vai A Indicare Quali Sono I Servizi Che Vuoi Che Tipologia Di Biglietto Vuoi Avere Se Un Biglietto Flessibile Piuttosto Che Un Biglietto Che Ha Solo Bagagli A Mano Quindi Tutte Le Fasi Tecniche Da Seguire Per La Conclusione Del Contratto Utilizzo Sempre Quando Parlo Di Questa Norma L'esempio Dell'acquisto Del Volo Aereo Perché Mi Sembra L'esempio Più Completo Di Indicazione Di Fasi Tecniche E Poi Anche Bisogna Indicare Il Modo In Cui Il Contratto Sarà Archiviato E Le Relative Modalità Di Accessso Di Nuovo Anche A Distanza Di Tempo Volete Andare A Riprendere Il Contratto Che Avete Fatto Perché Non Vi Ricordate Più Se Era Incluso Il Bagaglio Piuttosto Se C'era La Flessibilità Di Cambiamento E Cetera E Allora Avete Un'area Dedicata Con User ID Con Password In Modo Tale Per Accedere All'Archivio Dell'Acquisto Che Avete Fatto E Poi Anche Dice Il Decreto 70 Devono Essere Indicati I Mezzi Tecnici Che Il Compratore Ha A Disposizione Per Individuare E Correggere Gli Errori Di Inserimento Dei Dati Prima Di Inoltrare L'ordine Al Venditore Quindi Ovviamente Essendo Essere Umani Dobbiamo Avere Sempre La Possibilità Di Correggere L'errore In modo Tale Che Non lo So Se Per Svista Abbiamo Indicato Una Quantità Superiore Rispetto A Quella Che Effettivamente Necessaria Ci Deve Essere Sempre A Disposizione Un Mezzo Tecnico Per Individuare E Correggere Gli Errori Questo Ovviamente Prima Di Inoltrare L'ordine Tenete Presente Anche Che Le Clausole E Le Condizioni Generali Di Contratto Devono Essere Messe A Disposizione Del Compratore In Modo Che Gli Sia Consentita Non Soltanto La Possibilità Di Visualizzare Ma Anche La Memorizzazione E La Riproduzione Quindi Deve Deve Essere Tutto Quanto Oltre Che Accessibile Per Una Eventuale Stampa O Per La Formazione Di Un File Anche Memorizzazione Sul Proprio Supporto Durevole E Anche Riproduzione Quindi Una Stampa E Un' Archiviazione Per Quanto Riguarda La Gestione Dell'ordine A Questo Punto Quando L'ordine Del Dell'acquirente Perché Di Nuovo Sono Regole Che Riguardano Tanto La Vendita Online A Professionisti Quanto A Consumatori Quando Perviene L'ordine Al Venditore Il Venditore Online Senza In Giustificato Ritardo Dice Il Decreto 70 E Ovviamente Per via Telematica Deve Innanzitutto Dare Indicazione Di Aver Ricevuto L'ordine Da Parte Del Compratore E Questa Questo Riepilogo Ecco Di Accusa Di Ricezione Dell'ordine Deve Contenere Le Condizioni Generali E Particolari Applicabili Al Contratto Le Informazioni Legate Alle Caratteristiche Essenziali Del Bene Comprato E Anche L'indicazione Di nuovo Dettagliata Del Prezzo Dei Mezzi Di Pagamento Del Diritto Di Recesso Lo Andremo 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 Vedere Dopo E Anche I Costi Di Consegna E I Tributi Applicabili Quindi Tutte Le Volte Di Confesso Quando Acquisto Un Ho fatto L'esempio Prima Continuo a Farlo Un Volo Aereo Mi Chiedo Sempre Ma Come Mai Mi Arriva Poi Ancora Dopo Aver Fatto Tutti I Passaggi Dopo Avermi Chiesto Ma Sei Sicuro Che Vuoi Acquistare Proprio Quel Prodotto Lì Eccetera Mi Arriva Ancora Una Mail Dove Sembra Quasi Che Venga Preso Per Per Scemo Perché Mi Si Fa Riepilogo Guarda Che Hai Acquistato Quel Volo Con Quelle Caratteristiche Con Questo Prezzo L'hai Pagato In Questo Modo Quasi Mi Viene Da Dire Sì Lo So Perché L'ho Fatto Trenta Secondi Fa Eppure Questo È Un Qualcosa Che È Previsto Proprio Preatorio Per Legge Circa La Gestione Dell'Ordine Perché Vi Ho Rotto Le Scatole Su Tutto Questo Perché Ci Sono Delle Sanzioni Non Di Poco Conto Ovviamente Salvo Che Il Fatto Costituisca Reato Dal Punto Di Vista Delle Sanzioni Amministrative La Violazione Degli Articoli 7 8 9 E 12 Quindi Non Quelle Relative Alla Gestione Dell'Ordine Ma Tutte Quelle Che vi Ho Detto Prima Salvo Le Questioni Legate Alla Gestione Dell'Ordine Ecco Violazioni Riguardanti Queste Regole Che vi Ho Descritto Comportano L'applicazione Di Sanzioni Amministrative Pecuniarie Nei Casi Meno Gravi Minimo 103 Euro Sino Ad Un Massimo Di 10 Mila Euro Quindi Direi Che Comunque Sono Delle Sanzioni Non Di Poco Conto Questo È per Darvi Quindi L'inquadramento In Generale Ecco Delle Regole Sul Commercio Elettronico Previste Dal Decreto 70 Riprendendo Invece L'argomento Del Diritto Di Recesso Argomento Che Come Avete Visto Prima Della Pausa È Stato Anche Oggetto Di Intervento Legislativo In Attuazione Della Direttiva Omnibus Vorrei Fare Adesso Un Passo Indietro E Dare Un Quadro Un Po Più Generale Del Diritto Di Recesso Del Consumatore Questo Quadro Generale Lo Do Adesso Per Poi Affrontare Successivamente Alcuni Aspetti Specifici Allora Dal Punto Di Vista Generale Per Quanto Riguarda Il Diritto Di Recesso Del Consumatore Posso Dirvi Che Salvo Situazioni Particolari Dove Escluso Il Diritto Di Recesso E Il Diritto Di Recesso È Di Fatto Quello Che Viene Chiamato In Maniera Non Tecnica Come Diritto Di Ripensamento Si Acquista Online E Dopodiché Si Ripensa Senza Dare Motivazioni Si Ha La Possibilità Di Recedere Dal Contratto E Quindi Di Non Essere Più Vincolati All'acquisto Di Ciò Che Era Stato Comprato Online Ci Sono Dei Casi In Cui Il Diritto Di Recesso Escluso Sì Il Codice Del Consumo Prevede Un Elenco Ecco Di Casistiche Dove Non So Ad Prodotti Audiovisivi O Di Software Sigillati Aperti Dal Consumatore Oppure Prodotti Su Misura Prodotti Chiaramente Personalizzati Beh È Chiaro Che Non Si Può Esercitare Il Diritto Di Recesso Nel Caso In Cui Io Chiedo Non So Che Sulle Tenne Venga A Posto Il Mio Logo Piuttosto Che E Quando Io Acquisto Un Vestito Su Misura E Allora Non Posso Certo Ripensare E Reccedere Dal Contratto E restituire Il Bene Questo Salvo Quindi Questi Casi Eccezionali Il Diritto Di Recesso Esiste In Generale Come Diritto Del Consumatore E Il Professionista Deve Informare Il Consumatore Di Questo Diritto Deve Indicare I Termini Le Modalità Le Condizioni Per Esercitare Il Recesso Anche Indicare Il Soggetto Nei Confronti Del Quale Il Recesso Deve Essere Esercitato Quindi Con Tanto Di Indicazione Di Indirizzo E Anche Il Codice Del Consumo In Maniera Molto Puntigliosa Dice Che Queste Indicazioni Devono Essere Date Con Caratteri Tipografici Uguali O Superiori Rispetto Alle Altre Informazioni Che Riguardano Il Contratto Il Consumatore Ha Diritto Di Recedere Senza Penalità Senza Specificare Il Motivo Il Termine E Come Abbiamo Visto Prima Di 14 Giorni Dalla Data Di Ricevimento Della Merce 14 Giorni Però Aggiungo Un Ulteriore Concetto Entro 14 Giorni Se Ha Ricevuto Correttamente Le Informazioni Le Professionista Deve Dire Caro Consumatore Tu Hai Diritto Di Reccedere Con Queste Tempistiche Con Queste Modalità L'indirizzo A cui Ti Devi Rivolgere Se Se Tutte Queste Informazioni Vengono Date Correttamente 14 Giorni Dal Ricevimento Del Bene Acquistato Ma Se Non Vengono Date Correttamente 14 Giorni Da Quando Vengono Date Correttamente Le Informazioni E Al Più Tardi Un Anno E 14 Giorni Quindi Voi Capite Se Non Date Correttamente Le Informazioni Al Consumatore Circa L'esercizio Del Diritto Di Recesso A Questo Punto Il Consumatore Paradossalmente Ha Un Anno E 14 Giorni Di Tempo Per Poter Reccedere Quindi Fare Molta Attenzione A Come Si Danno Le Informazioni Come Si Danno Le Informazioni Al Consumatore In Questo Caso Estremamente Importante Essenziale Se Esercita Il Consumatore Il Diritto Di Recesso E Tenuto A Restituire Il Bene Di Nuovo Entro Un Termine Di 14 Giorni Dalla Data In Cui Ha Comunicato Recesso Quindi Comunica E Da Lì Inizia La Clessidra Del Conto Alla Rovescia Di 14 Giorni Per La Restituzione Del Bene Restituzione Che Si Considera Effettuata Nel momento in cui Viene Consegnato Il Bene All'Ufficio Postale O Al Corriere Si Può Utilizzare Il Bene Beh Allora Innanzitutto Il Bene Deve Essere Restituito Il Codice Del Consumo Lo Dice Chiaramente Il Bene Deve Essere Restituito In Normale Stato Di Conservazione Può Essere Adoperato Sì Con L'uso Della Normale Diligenza E Il Codice Del Consumo Precisa Che Il Bene Può Essere Manipolato Dal Consumatore Per Stabilire La Natura Le Caratteristiche E Funzionamento Del Bene E Quindi Anche Una Bicicletta Acquistata Online Si può Tranquillamente Utilizzare Mi faccio Un giro Dell' Isolato Dopodiché Non sono Soddisfatto La Posso Restituire È Stata Utilizzata Sì Ma è Stata Utilizzata Nei Limiti Previsti Dal Codice Del Consumo Per Stabilire Natura Caratteristiche Funzionamento E A questo Punto Il Diritto Di Recesso Continua Ancora Ad Essere Esercitabile Il Professionista Se viene Esercitato Il Recesso Cosa Deve Fare Il Codice Del Consumo Dice Chiaramente Deve Rimborsare Tutte Le Somme Versate Dal Consumatore Questo Gratuitamente Di No Senza Penalità Nel Minor Tempo Possibile Dice Del Consume E In Ogni Caso Entro 14 Giorni Dalla Data In Cui È Venuta Conoscenza Dell'esercizio Del Diritto Di Recesso Il Rispetto Di Queste Regole È Essenziale Perché Il Fornitore Che Contravviene A Queste Norme Oppure In Qualsiasi Modo Ostacola L'esercizio Del Diritto Di Recesso Oppure Non Rimborsa Al Consumatore Le Somme Versate Nei Tempi Che Vi Ho Detto Prima Quindi 14 Giorni Dalla Data In Cui È Venuta A Conoscenza Del Diritto Di Recesso E Punito Qui Con Una Sanzione Amministrativa Pecuniaria Per Ciascuna Violazione Attenzione Qua Le Sanzioni Sono Davvero Più Gravi Si Può Si Parte Da Un Minimo Di 5.000 Euro Ripeto Minimo 5.000 Euro Sino Ad Arrivare Ad Un Massimo Di 50.000 Euro Quindi Mi Sembra Molto Importante Fare Attenzione In Proposito Cosa Posso Aggiungere A Riguardo Di Ogni Singola Voce Di Questa Slide Per Quanto Riguarda L'obbligo Di Informazione Allora Vi ho detto Prima L'informazione Deve essere Data In Modo Chiaro Comprensibile Tant'è Vero Che È Obbligatorio Fornire Al Consumatore Un Modulo Per Esercitare Il Recesso A Questo Punto Il Codice Del Consumo Prevede Addirittura Un Modulo Standard Che È Consigliato Dal Legislatore Al Riguardo L'informazione Come Tempistiche Va Data Prima Quindi Alla Conclusione Del Contratto Al Più Tardi Con La Consegna Del Bene Si Tratta Di Una Informazione Obbligatoria E Su Questo Non Voglio Ulteriormente Dilungarvi Per Quanto Riguarda Invece I Termini E Le Modalità Del Diritto Di Recesso Come Ho Detto Prima Entro 14 Giorni Dalla Consegna Del Bene Modalità O Si Utilizza Il Modello Tipo Che È Predisposto Dal Legislatore Ripeto In Un Allegato Del Codice Del Consumo Il Legislatore Ha Previsto Un Modello Standard E Quindi Se Offrite Quel Modello Lì Non Sbagliate Dal Legislatore Oppure Si Può Presentare Una Qualsiasi Altra Dichiarazione Esplicita Della Decisione Di Recedere Dal Contratto Quindi Attenzione Anche Se Voi Date Un Modello Di Esercizio Del Diritto Di Recesso In Occasione Di Una Vendita Online Non È Detto Che Poi Il Consumatore Utilizzi Questo Modulo La Cosa Importante Ripeto È Che Si Tratti Di Una Dichiarazione Esplicita Del Consumatore Della Sua Decisione Di Voler Reccedere Dal Contratto L'onere Della Prova Della Trasmissione Di Questa Comunicazione Comunque È In Capo Al Consumatore Quindi Il Consumatore Deve Avere L'accortezza Di Utilizzare Un Mezzo Sicuro Di Comunicazione Ad Infine Le Sanzioni Come vi ho detto Prima Sottolineo In caso di Ostacolo All'esercizio Del diritto Di recesso O mancato Rimborso Di Somme Pagate Dal Consumatore Per Ciascuna Violazione È Prevista Una Sanzione Amministrativa Pecuniaria Da Un Minimo Di 5.000 Euro Sano Ad Un Massimo Di 50.000 Euro Attenzione Che Questi Comportamenti Possono Essere Anche Considerati Come Una Pratica Commerciale Scorretta Che Può Portare Anche Alla Sostensione Della Vostra Attività Sino A 30 Giorni Infine Ecco Ricordo Così Congiungendomi Ecco Al Discorso Che Faceva Precedentemente Il Mio Socio Nicolo Maggiora Ricordo Appunto Che Con La Direttiva Omnibus Il Periodo Del Diritto Di Recesso Viene Prolungato Da 14 A 30 Giorni Quando Ci Sono Visite Non Richieste Di Un Professionista Al Domicilio Del Consumatore Oppure Anche In Caso Di Viaggi Organizzati Dal Professionista Con Lo Scopo Ecco Di Promuovere O Di Vendere Dei Prodotti Al Consumatore Questo E Quindi Per Concludere La Panoramica Sul Diritto Di Recesso Perché Ci Tenevo Nel Caso Senz'altro Di Vendita Online Ai Consumatori Questo È Un Elemento Di Grande Importanza Ultimo Argomento Che Vorrei Approfondire Che Vorrei Trattare Insieme A Voi In Modo Anche Pratico Facendovi Come Vi ho Detto Prima Degli Esempi Di Clausole Riguarda Appunto Il Panorama Delle Clausole Vessatorie Nei Contratti Fra Professionista E Consumatore Cosa Significa Innanzitutto Clausola Vessatoria Il Principio Fondamentale Lo Riportate In Questa Slide È Il Primo Comma Dell'articolo 33 Del Codice Del Consumo Il Primo Comma Dell'articolo 33 Dice Proprio Nel Contratto Tra Professionista E Consumatore Si Considerano Vessatorie Delle Clausole Che Determinano A carico Del Consumatore Un Significativo Squilibrio Dei Diritti E Degli Obblighi Derivanti Dal Contratto Capite Voi Che Il Concetto Di Significativo Squilibrio È Un Concetto Del Tutto Soggettivo Quello Che Squilibrio Per Me Non Lo È Per Voi E Dice Versa Allora Per Questa Ragione Il Legislatore Ha Fatto Nel Codice Del Consumo Un Lungo Elenco Di Definizione Di Clausole Vessatorie E Ha Creato Due Elenchi Clausole Vessatorie Primo Elenco Che Si Presumano Vessatorie Sino A Prova Contraria E Nel Dubbio L'interpretazione È Favorevole Al Consumatore Ma Può Essere Data Prova Contraria E Clausole Invece Che Sono Da Considerare Assolutamente Vessatorie Quindi Nulle Senza Possibilità Di Provare L'assenza Di Vessatorietà Allora Per Capirci Facciamo Alcuni Esempi Comincio A fare Degli Esempi Di Clausole Vessatorie Che Sono Tali Sino A Prova Contraria Ecco Il Primo Esempio È Questo La Clausola È Nella Parte Come Potete Vedere Ecco Nella Parte Inferiore Della Slide Sopra Ho Riportato Il Principio Di Legge È Da Considerare Vessatoria Sino A Prova Contraria Ecco Una Clausola Che Prevede Un Impegno Definitivo Del Consumatore Mentre L'esecuzione Della Prestazione Del Professionista È Subordinata A Una Condizione Il Cui Adempimento Dipende Unicamente Dalla Sua Volontà Ecco L'esempio È L'esempio Tipico Del Salvo Approvazione Della Casa Ecco Le clausole Salvo Approvazione Della Casa Che Sono Tipicamente Inserite Nelle Condizioni Generali Ecco Qui L'esempio È Il Venditore Fornirà I Prodotti Al Compratore Sulla Base Di Un Ordine Che Il Venditore Sarà Libero Di Accettare O Di Rifiutare No Questa È Una Clausola Da Considerare Vessatoria Nel Momento In cui Io Vedo Online Un Bene E Voi L'offrite In Vendita Considerate La Piattaforma Online Come La Vetrina Di Un Negozio Quindi Io Passo Da Negozio Vedo Un Paio Di Scarpe Mi Piacciono Entro Dentro Nel Negozio E Dico Voglio Quelle Scarpe Faccio L'ordine Il Negoziante Non è che Dice No Mi Rifiuto Di Venderti Le Scarpe E La Medesima Cosa Ecco Per Capirci In Forma Poco Professionale Molto Grossolana Quindi Questa È L'idea Che Sottostante Al Principio Di Legge La Clausola Salva Approvazione Della Casa Vale Nei Rapporti B2B Quindi Nei Rapporti Che Voi Potete Avere Nella Vendita Per Uso Professionale Ma Nei Confronti Dei Consumatori Assolutamente No Allora Altro Esempio Sono Vessatorie Sino A prova Contraria Quindi Nulle Sino A prova Contraria Le Clausole Che Stabiliscono Che Il Prezzo Dei Beni O Dei Servizi Che Voi Offrite Online Che Questo Prezzo Sia Determinato Al Momento Della Consegna O Della Prestazione Del Servizio Quindi L'esempio Di Clausola E Il Prezzo Dei Prodotti Sarà Quello Del Venditore In Vigore Al Momento Della Spedizione Dei Prodotti Anche Questa Una Clausola Che Nei Rapporti Con I Professionisti Vale Benissimo Io Mi Riservo Di Aggiustare Il Prezzo Per Eventuali Fluttuazioni Aumenti Nel Costo Della Manodopera Delle Materie Prime Assolutamente No Nei Confronti Del Consumatore Il Prezzo Non Può Essere Determinato Al Momento Della Consegna O Della Prestazione Di Servizio Ma È Quello Quando Viene Concluso Il Contratto Ancora Altro Esempio Di Clausola Vessatoria Sì La Prova Contraria Quindi Nulla Salvo Prova Contraria È Una Clausola Che Riserva Al Professionista Il Potere Di Accertare La Conformità Del Bene Venduto O Del Servizio Prestato A Quello Previsto Dal Contratto Leggiamo L'esempio È Una Clausola Che Sovente Si Condizioni Generali Nelle Parti In Cui Si Disciplina La Materia Dei Vizi Della Cosa Venduta Argomento Che Ha Trattato Ecco Prima Il Il Mio Collega Nicolo Maggiore La Clausola È Eventuali Recloni Non Danno Diritto Al Compratore Di Restituire I Prodotti Senza L'approvazione Preventiva Per Iscritto Del Venditore Che Dovrà Verificare I Pretesi Difetti E La Loro Imputabilità Al Venditore Questa Clausola Assolutamente Valida Nei Rapporti Con I Professionisti È Da Considerare Nulla Per Ragioni Che Ha Spiegato Prima Il Mio Collega Maggiore Il Consumatore A Determinati Diritti Quando Ci Sono Beni Che Non Sono Conformi Ma Coniughiamo Queste Regole Esposte Prima Con La Regola Del Codice Del Consumo Secondo Cui Ecco Non Si Può Riservare Al Professionista Il Potere Di Accertare La Conformità Del Bene Venduto Ecco Quindi Dare La Possibilità Al Professionista Di Dire Mi Spiace Tanto So